Salve amici del centro medio italiano. L'arrivo di correnti nord-atlantiche favorirà il ritorno del maltempo anche al centro-sud fino agli inizi della prossima settimana. Andiamo quindi a vedere la tendenza nel medio-lungo periodo. Il weekend trascorrerà in compagnia dello scivolamento di una goccia fredda sulle regioni centro-meridionali, che porterà maltempo e temporali sparsi per lo più nelle ore pomeridiane. Tra lunedì e martedì il sistema depressionario in quota si sposterà all'estremo meridione, con l'alta pressione rimonta su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda le temperature, la colonnina di mercurio alle quote medie potrebbe registrare anomalie negative nell'ordine di 1-3 gradi. Tendenza comunque ad un rinforzo dell'anticiclone nella seconda parte della settimana, con rialzo termico e clima estivo da nord a sud. Per tutti i dettagli mi invitiamo come sempre a seguire sia il nostro sito che sia il nostro canale youtube. Un saluto da parte del Centro Metro Italiano.